Mi chiamo Luigi Cristiano, mi occupo di profumi, soprattutto scrivo di profumi. Siamo qui allo Smile Festival, ho fatto un laboratorio, un workshop sulla preparazione di un incenso in grani che si tratta della forma più antica di fare profumo, cioè profumus attraverso il fumo. L'esperienza qui allo Smile Festival è stata un'esperienza gradevolissima perché ho incontrato il pubblico e stranamente queste cose succedono sempre nel buio, nella setticità di un laboratorio e qui invece ci siamo messi a nudo e la partecipazione di tutti è stata una partecipazione che ha creato più efficacia alla creazione.